Noi praticamente negli incontri con i cittadini andiamo a raccogliere tutte quelle che sono le istanze, le lamentele, le esigenze, idee, spunti, suggerimento circa le criticità della SR-71. È una strada che negli ultimi tempi il traffico si è decolplicato e numerosi sono gli incidenti, molte volte è sceso sulla strada medesima l'elisoccorso Pegaso, quindi è una situazione che non è più sostenibile. Il traffico sta aumentando a discapito degli automobilisti, si creano file interminabili negli orari di punta, quindi se da Camuci e da Castiglione Fiorentino i pendolari che per lavoro devono venire ad Arezzo ci vogliono tempi interminabili. E' una situazione che andava affrontata, un comitato cittadino guarda a 360 gradi, non è un gruppo di parte, non è un partito, è un comitato e guarda a tutti, a politico, a partitico. Nel palazzo della provincia abbiamo avuto un incontro con la presidente Silvia Chiassai, la quale ha tenuto una conferenza stampa in nostra presenza e lei si è impegnata a fare da tramite, da mediatrice, con gli amministratori comunali interessati al passaggio della SR-71, quindi area valdichiana, area casentino. Quindi nell'anno nuovo che verrà lei organizzerà un tavolo congiunto con gli amministratori e verranno presentate queste criticità e quindi il prossimo passaggio, il prossimo step sarà quello dietro a una progettualità dei tecnici della provincia e vedere intanto di poter effettuare qualche intervento. Per fare gli interventi ci vogliono i soldi, però per prendere anche i finanziamenti ci vuole una progettualità, bisogna presentare dei progetti. E quindi questo la provincia penserà ad organizzarsi insieme agli amministratori. Sappiamo benissimo che tutto è subito, non si può, è impossibile. Però l'importante è cominciare e la voce dei cittadini è così utile perché è una voce in più, è un diciamo anche un collante. Noi vogliamo essere un tramite tra i cittadini e le istituzioni perché è quello che manca negli ultimi tempi. C'è stato un interessamento da parte di alcuni parlamentari locali, diciamo parlamentari del nostro territorio, che si sono presi carico l'impegno di presentare un'interrogazione parlamentare sulla criticità SR71. E quindi noi auspichiamo di ricevere buone notizie nei mesi a venire e che finalmente si metta mano a una, tantomeno almeno, a una riqualifica della strada. Poi c'è chi parla di varianti, sono decenni che si sta parlando di varianti e ben vengano, ma i tempi, lo sappiamo, per una variante sono interventi che saranno fatti in un futuro molto lontano, non in un futuro prossimo. Adesso pensiamo, ci preoccupiamo soprattutto di intervenire sulla SR71 medesima con la prima richiesta che il Comitato ha fatto tramite i cittadini. Noi abbiamo fatto una richiesta specifica, c'è l'esigenza delle aree di sosta per i mezzi pubblici e quando dico mezzi pubblici intendo non soltanto autobus di linea, ma i camion, autocarri, motocarri della nettezza urbana, parlo di tutte le macchine operatrici che passano lungo la SR71 anche purtroppo con passo rilento e creano inevitabilmente code interminabili. Un'area di sosta potrebbe, diciamo sicuramente, aiuta a far scorrere il traffico, se non altro negli orari di punta.